Ciao a tutti quanti, grazie per essere qua in uno dei miei giorni qualsiasi Noi si vive così, un quarto di disco alla volta Bello lui, guardalo Che scuotta, sereno Voi non lo vedete ma ha il sorriso stampato in faccia Guardalo Scende serafico, lento, domando il peso Bello lui Ottimo, adesso tocca a me, non solo ai ragazzi Devo fare, ah non c'è questo, nocciolino mi metti un 10 per lato Easy, grazie, io prendo la cintura perché è meglio Posso anch'io mettere un disco da 10 Vada a caricare signor Davide, non abbia timore Oggi è una giornata di gambe come avete ben visto, è un leg day per me il doc Mentre per nocciolino sarà un'avventura di panca Questo oggi Easy Molto lieta E' un po' stretta questa cintura, dovrei mettere le mie dita E come mai? Eh ho mangiato un po' tanto Bello Oggi farò un 10 per 5 Quindi mi mantengo alto con il volume Un po' più moderato Con le ripetizioni Ad ora ascoltare, scende lento Che lento Sale esplosivo E vai Due E su tre Su quattro Come vedete la barra spezza il suo trapezio Avvicinati Fai vedere, è un piacere per gli occhi Buono E fate allenarvi nudo però Nudi Su esplosivo L'adomato Uno Due Leggermente in basso i gomiti e su esplosivo Dorsali attivi Scapole serrate Fiato prima di scendere Fiato Sale il petto Su Vai 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 Buono Buono Pris Come ne ha Come ne ha Leggiare il fiore Sì Uno 1, 2, 3, 4, 5 uomo 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 4, 7, 1, 3, 1, 4, 8, 1, 1, 2, 1 mko, un altro uomo molto mi sento più sicuro quando ho davide dietro sento la presenza duro è molto duro guarda il bilanciere come flette combatto esplosivo dinamite sono qui su è vuoto è vuoto su tua è tua vai bravo bravo su 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 aria mi è piaciuta si ne facciamo far 7 devono volare di intervare il soffitto come neanche come neanche 2 ok 4 5 non è scesa però è scesa è scesa è scesa come neanche quanto ne ho fatto? 7 fuori target ma mi piace vedi che ci prendo ok davide mi passa dal back squat al front squat quindi si riparte con il riscaldamento si fa le articolazioni comunque una posizione diversa il movimento e la traiettoria di spinta cambia e quindi ripartirà insomma con un peso molto più umano io non farò il front squat passerò diciamo un allenamento un po più da bidiboldi con pressa e comunque vedete insomma state nel video cioè non cambiare spirito figa cambiano così su fanno lo skip 1 so 7 2 oh dai 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 3 so 4 ah 2 oh oh brucia il 5 nasce il nuovo e oh cazzo ottimo adesso ho concluso con lo squat l'allenamento mi dura circa un'oretta 55 minuti un'ora adesso continuerò l'allenamento di gambe cercherò di finirlo del tutto accorciando i recuperi inserendo qualche tecnica speciale in questo caso passo in pressa 45 e farò un rest pose quindi 3 serie da 10 fermo 10 secondi di pausa tra le 3 serie beh faccio prima vedete ecco si figa confuso quando parlo anche se avete fiat nella prima serie non siate avidi perchè rischiate di compromettere le 3 serie successive fatte sgorgare un po' di sangue 10 secondi di recupero si riparte 10 secondi di pausa non ce la fai più a parlare non ce la fai più a parlare la pelle d'oca piace entra dritto dove deve entrare e fatica c'è quanti ne ho fatte? tre hai finita? si ok adesso un minuto e mezzo di recupero dopo di che si riparte è consigliabile alzarsi in modo da far defluire il sangue e farlo un po' circolare si perchè il sangue rimane lì stagna nella gamba non si riosigena basta andiamo a mettere un po' di pepe si parte subito si ha fame del workout dagli un occhio al davidona che ti fa il pronto squat con 100 kg e basta poi chici 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 ma come chici agli chici Ehi, lecce! Ah, ecco la vera! Questa figa, non mi filma più! Questa sarebbe una fantastica foto da copertina, questa. Fatta! Cazzo! Dai! 9, 10, 9, 10! Pausa, e così andremo a fare altre... Mi esprimo il tricipite, mi piaceva. Come? Si riappoggi, mi esprimo il tricipite. Esprimo il tricipite, c'è pienezza, così. Ancora meglio. Ah, ok. Nocciolino che sta inclinata. Lo stiamo facendo crescere quel giovanotto. Nocciolino. Vai, no! Bello pieno, bello pieno. Ce n'è di peso qua, eh? Ce n'è! Uulala, uulala! Buono, buono! La grazia di tricipiti. Adesso per me è il momento di fare degli affondi in camminata. Mi porto al centro della sala e... Avanti e indietro, uomo! Avanti e indietro! Tu cammini, c'è una macchina. Così. Mi piace. Andiamo a prenderci il manubrio. Il manubrio leggiadro. Un sacco e fai. Un sacco e fai. Un 24. Stiamo leggeri visto che sono a metà allenamento. Qua ragazzi teniamo, teniamo, io tengo, eh, voi fate quello che vi pare. Un minuto di recupero. Come vi ho detto, li abbasso verso l'ultima parte dell'allenamento per evitare di trovarmi a fare sette ore di workout. E scendiamo a un minuto per gli affondi. ha aumentato il fettente di davide andiamo a vedere si 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 lo vedo più pieno quanto è 200 chili gente non ci fa gli stacchi da terra lui ci fa gli stacchi a gambe tese come vedete è senza cintura no bel buono buono è duro è settato vai grande stimolo grande stimolo che allenamenti che cazzo di allenamenti chiudilo si ma che cosa gli porti che cosa vi porto io vi rendete conto brucia dai miei lascialo bruciare no dai uomo leggero uomo sono piume di ferro queste piume di ferro uno vai due tre quattro cinque sei sette vai da solo lui io sono passato dal mio fondo in camminata cinque sette al squat per mia somma meraviglia con pochissimo peso riesco a sentirlo cioè già con la squat vuoto avevo male al quadricipile ovviamente non posso fare un video senza i dischi perché mi prende da stronzo quindi mi sforzerò per portare a casa piume o rileno con disco da venti per lato ma sappiate che brucia molto entra nel muscolo oh oh noch data claude fan con fai a non fai male a o Ok stiamo andando verso l'ultima parte dell'allenamento, infatti se vedete un agonizzante Davide sta facendo colpacci in totale serenità, per nulla affranto dal dolore. Io invece passo ad allenare la parte posteriore della gamba, mi diletterò con un sempre fedele leg curl da sdraiato, siete pregati di non guardarmi il culo, eh? Maglialoni, poco peso, molto concentrato e lento, forte enfasi nella chiusura, così lo concentro, me lo tengo. Dovrei toccare per sentire se è concentrato. Dio un filo ai ragazzi. Sì è concentrato, lo senti. No si dovrebbe allenare nudo, per esprimersi al meglio. Nocciolino imperterrito, continua a poppare. Nocciolino ne ha più di voi. Sì, si cazzo muove l'aria. Buon sangue non mente. Io ho male. Facendo tosse, colpi di tosse, fumo. La Danny Trap. E' in clip? Sì. Sponcannato. La Danny Trap. Facci la Trap, Danny. La Danny Trap. Io... No, no, questi sono matti. Vengo ucciso e ho sparato. La Danny Trap. Concludo l'allenamento definitivo per la parte posteriore, quindi femorale gluteo, dal leg curl sdraiato a questa macchinetta strana che la usa sempre Cerri. E vi dirò, all'inizio la sottovalutavo, magari chi ne so, la snobbavo un pochino. E in realtà entra proprio dove deve entrare. Perché sai un... Ah cacca mamma. Questa fa male fino a subito. Senti il cigolio. Guarda che bei cosciotti. Voi di sicuro non ce l'avete in palestra perché penso che non ci hanno mai arrivato da nessuna parte. Credo che non ci hanno mai esistito. Credo che ne abbiano venduto a una. Ah. Ed è qua dentro adesso. E cazzo. Non fa veramente male. Spesso dopo tre ore di gambe. Fai start, perfettissimo. Ragazzi siamo arrivati a chiusura di questo video. Io sono bianco calaverico perché ho tutto il sangue nella parte bassa. Infatti ho fatto gambe. Alzati, non essere stanco. Devi diventare un mistero lupo. Davide, viene... Cioè siamo tre zombie. Comunque sappiate che abbiamo fatto... Quanto vi ho fatto l'allenamento qua? Tre ore e mezza. Non lo so. Non lo sappiamo. Io ho un recupero da un quarto d'ora e ho poi segnato. Molto bene. Spero che questo video di allenamento vi sia piaciuto. Diteci sì, ci è piaciuto. Perché se no non ne facciamo più. Perché se mi scrivi fa cagare che gli sto a fare i video io. Grazie. Chiuso. Chiuso. Ciao. Ciao. Bello.